Previsioni per oggi, martedì 11 gennaio. La giornata sarà caratterizzata da pioggia intermittente e schiarite. Venti moderati con velocità massima fino a 15 km. Temperature in lieve calo nei valori massimi, stazionarie le minime. Per la giornata di domani si prevedono deboli piogge e schiarite. Venti da nord-est con raffiche fino a 15 km. Temperature comprese fra 10 e 12 gradi.